La presentazione di oggi riguarda l'acqua. Quali sono gli obiettivi di questa presentazione? L'influenza dell'acqua sulla lavorabilità del calcio estruzzo fresco, l'influenza dell'acqua sulla resistenza del calcio estruzzo inurito. Questi argomenti verranno ripresi successivamente quando si parlerà della lavorabilità del calcio estruzzo fresco e della resistenza meccanica del calcio estruzzo inurito. Ruolo dell'acqua nel calcio estruzzo. Oltre a reagire con il cemento, l'acqua gioca un duplice ruolo nel condizionare le prestazioni del calcio estruzzo. Secondo la regola di Clis, la classe di consistenza caratterizza il calcio estruzzo fresco. La legge di Abrams, invece, correla la resistenza meccanica del calcio estruzzo indurito con il rapporto acquascemento. Questa è la misura della lavorabilità del calcio estruzzo fresco con il metodo più impiegato, il cosiddetto cono di Abrams, alto 30 cm o 300 mm, un cono che ha due aperture sopra e sotto, del diametro di 200 mm sotto e 100 mm sopra. Si riempie di calcio estruzzo, poi si solleva il cono metallico e il calcio estruzzo si abbassa, questo in inglese si dice SLAMP, e si misura di quanto si è abbassato. Maggiore l'abbassamento, maggiore è la lavorabilità. Classe di consistenza. In questa tabella vediamo la classe di consistenza in funzione dello SLAMP in millimetri e la denominazione corrente della classe di consistenza. S1 è il calcio estruzzo più asciutto, è uno SLAMP tra 10 e 40 mm ed è chiamato consistenza a terra umida. S2 ha uno SLAMP tra i 50 e i 90 mm ed è denominato a consistenza plastica. S3, il calcio estruzzo ha uno SLAMP tra 100 e i 150 mm ed è detto a consistenza semifluida. S4, lo SLAMP è compreso tra 160 e 210 mm e viene detto a consistenza fluida. S5, lo SLAMP è maggiore o uguale a 220 mm e la consistenza è detta superfluida. Qui vediamo un esempio di calcio estruzzo superfluida a consistenza S5 al momento del getto per caduta libera da un'auto betoniera per alimentare un pavimento. Regola divise, l'acqua d'impasto A per confezionare un calcio estruzzo dipende da il diametro massimo di max dell'inerte, con di max più grossi l'acqua d'impasto A diminuisce, il tipo di inerte, l'inerte frantumato richiede più acqua rispetto a quella lui onale. La classe di consistenza, l'acqua aumenta con la classe di consistenza. Qui vediamo rappresentata la regola divise dove sulla sinistra vediamo il diametro massimo dell'inerte da 8 a 160 mm, la riga in alto mostra la classe di consistenza da S1 fino ad S5 e i numeri inclusi nella tabella sono i chili di acqua che occorre aggiungere all'impasso per ogni metro cubo di calcio estruzzo. Questi valori che leggiamo nella tabella vanno ridotti di 10 kg se gli inerti sono alluvionari, tondeggianti e lisci e vengono invece aumentati di 10 kg se gli inerti sono di frantumazione e rubi di 25 mm di diametro, vedete che l'acqua d'impasto passa da 175 a 225 a seconda che la classe di consistenza aumenti da S1 a S5. Per la classe di consistenza S3 vediamo che l'acqua d'impasto diminuisce dall'alto 230 al basso 150 kg per metro cubo man mano che il diametro massimo aumenta. Il diametro massimo maggiore vuol dire meno acqua d'impasto. Facciamo un esempio. Con un D-MAX di 25 mm che vedete sulla sinistra tondeggiato è una classe di consistenza S3. L'acqua d'impasto che leggiamo nella tabella è 210 kg per metro cubo. Se ammettiamo che l'inerte è alluvionale va diminuito di 10, quindi l'acqua d'impasto risulterà essere 200 kg per metro cubo. Legge di Abrams. La resistenza è uguale a K1 diviso K2 elevato al rapporto acquasciamento, dove R è la resistenza meccanica a compressione. Qui vediamo l'andamento grafico di questa legge. Sulla ascissa abbiamo il rapporto acquasciamento e sull'ordinata la resistenza caratteristica a compressione in newton per millimetro quadrato quando si impiega un cemento, cioè 2AL42,5L. Sappiamo che questo simbolo indica un cemento al calcare con un basso ottenuto di calcare A e con una classe di resistenza d'eccedente pari a 42,5N. Se partiamo da 30 newton per millimetro quadrato con questo calcensurso, vediamo che dobbiamo adottare un rapporto acquasciamento 0,63 per ottenere questa resistenza meccanica. Facciamo però degli esempi sulle riaggiunte d'acqua sul cantiere. Esempio pratico, 30 MPa resistenza caratteristica richiesta, S3 la calza di consistenza, l'inerta alluvionale con un diametro di 25 mm. Facciamo un esempio di messa in opera senza riaggiunta d'acqua sul cantiere. Abbiamo visto che con un diametro massimo di 25 mm ed una classe di consistenza S3, l'acqua con l'inerte alluvionale è 200 kg per metro cubo. Quindi per un RCK di 30 MPa, il rapporto acquasciamento sarà 200, che è l'acqua, diviso C, che è il dosaggio di cemento. Questo deve fare 0,63, come abbiamo visto dal grafico precedente. Pertanto C è uguale a 200 diviso 0,63, 317 kg per metro cubo. Facciamo adesso un esempio in cui il diametro massimo è sempre 25, ma si aggiunge più acqua fino a portare la classe di consistenza del calcio di S3, sarà un S5. Come vedete, il valore dell'acqua sale a 225, se l'inerte è alluvionale, si sottraggono 10 kg per metro cubo e l'acqua diventa 215 kg per metro cubo. Vediamo l'acqua d'impasto per aumentare la valabilità sul cantiere, dal calcio di astruzzo semifluido al calcio di astruzzo superfluido. Per la classe di consistenza semifluido S3, l'acqua è 200. Se aggiungiamo più acqua sul cantiere per portare la classe di consistenza a un valore più elevato, S5, l'acqua che occorre aggiungere è 215 kg per metro cubo. Riaggiunta d'acqua sul cantiere Senza la riaggiunta d'acqua abbiamo visto che la RCK 30 MPa porta a un rapporto acqua-cemento di 0,63 e a un dosaggio di cemento di 317 kg per metro cubo. Se si riaggiunge l'acqua con lo stesso inerte 25 mm di diametro massimo alluvionale, Gaia, se la classe di consistenza è S5, abbiamo visto che l'acqua aumenta e diventa 215 kg per metro cubo. Se il cemento rimane lo stesso perché abbiamo riaggiunto solo l'acqua sul cantiere, il cemento è 317, pertanto il rapporto acqua-cemento diventa 215, acqua diviso il cemento 317, di fatto con questa riaggiunta d'acqua abbiamo aumentato il rapporto acqua-cemento a 0,68. Ecco cosa succede sul grafico che correva la resistenza meccanica con il rapporto acqua-cemento. Abbiamo visto che con 30 sull'ordinata l'ascissa era 0,63 ma adesso, avendo riaggiunto l'acqua, partiamo da 0,68 sulla scissa e vediamo che penalizziamo la prestazione meccanica abbassandola da 30 a 24 megapascale. Responsabilità nella riaggiunta d'acqua sul cantiere. Chi è responsabile? Il preconfezionatore? L'impresa? Il direttore dei lavori? Il progettista? Secondo il paragrafo 11.2.11 delle norme tecniche per le costruzioni, il progettista ha l'obbligo di prescrivere la classe di consistenza in funzione della tipologia e della difficoltà esecutiva della struttina al fine di garantire un'adeguata messa in opera senza rischi di difetti a vista o alveoli interni. Calcioestruzzo superfluido in opera in una struttura fortemente armata. Guardate questa struttura. Chi più del progettista conosce la difficoltà esecutiva di un'opera come questa? È chiaro che per un'opera come questa il progettista è il primo responsabile se non prescrive al preconfezionatore di consegnare un calcioestruzzo a classe di consistenza S5. Sarà poi il direttore dei lavori a verificare che effettivamente la classe di consistenza S5 mediante una misura dello stampo. Grazie per l'attenzione e alla prossima presentazione.